Sunset! Allora, le Sunset si incontrano per caso ad una fiara del fumetto grazie allo zaino dei BTS Giustamente Entrano nella stessa crew poco dopo, facendo nascere una forte amicizia quindi con Lion, The Idol, le Sunset, il palco è vostro Dopo mi dai la tua corona Allora, le Sunset si incontrano per caso ad una fiara del fumetto locale sfido la lotta investigations spots Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.